Buonasera, benvenuti a questa particolarissima serata qui alle scimmie che ringraziamo dell'ospitalità. Questa sera presentiamo un disco che è stato realizzato dal vivo nel maggio scorso e nasce da un incontro che è stata una grande scommessa a cui abbiamo creduto tutti, cioè l'incontro fra Dave Liebman e Enrico Intra sulle musiche di Enrico Intra. Trent'anni dopo Mulligan Meets Intra è uscito un CD dell'Alpha Music, Liebman Meets Intra, che ha vinto il referendum di musica e dischi come miglior album del 2008 e che è entrato poi nella top ten anche del referendum di musica jazz. Perché dico che è stata una scommessa vinta? Non perché il referendum sia qualcosa che dà qualcosa in più di valore alla musica, ma perché la musica è veramente riuscita in un modo eccezionale. Si sono incontrati alla casa del jazz di Roma, hanno provato pochissimo, hanno fatto un concerto a Roma e uno a Monza. C'è stata un'empatia straordinaria tra questi due musicisti che sono in fondo complementari uno all'altro. Enrico Intra guarda l'America da europeo, Dave Liebman guarda l'Europa da americano. Le composizioni di Intra per certi aspetti assomigliano a certe procedure che il Liebman utilizza e quindi l'incontro insieme a Marco Vaggio e Tony Arco ha dato vita a una musica di grande libertà ma nello stesso tempo con una fortissima identità. Questo è l'aspetto importante di Liebman e Mizzintra. In un club poi penso che la situazione sarà ancora diversa rispetto al concerto in teatro e rispetto a quella che può essere l'emozione dell'ascolto in un disco. Un'ultima cosa, questi musicisti non sono chiusi negli schemi comodi che tanti utilizzano, non sono chiusi in procedure formali che sono sempre le stesse, guardano la loro realtà, la realtà che sta intorno a loro e hanno quel grande senso della responsabilità che ogni artista deve avere. Cioè cercare di essere sempre, comunque e in ogni momento un artista creativo. Tony Arco, Marco Vaggi, Dave Liebman, Enrico Intra. grazie a tutti grazie a tutti